Giornata di sciopero per Umbra Mobilità e i suoi servizi. In data 11 settembre, infatti, il trasporto pubblico si fermerà per ben 24 ore. I dipendenti dell'azienda Umbra incroceranno le braccia per farsi ascoltare nel corso della delicatissima fase che sta attraversando ora l'azienda. La protesta, già ampiamente annunciata nelle scorse settimane, è stata indetta dalla segreteria regionale UGL Trasporti. Tuttavia, il servizio di trasporto pubblico sarà garantito nelle fasce comprese tra le 7 e le 9 e dalle 12 alle 15. Gli impianti meccanizzati, costituiti dalle scale mobili attigue alla stazione del Pincetto e dell'ascensore inclinato, saranno garantiti per l'intera giornata con il normale orario di esercizio, dalle 7 alle 21 e 20. Visti i tempi, è già qualcosa. Poteva anche andar peggio la cittadinanza, già alle prese con l'aumento di tariffe scattato in data 1 settembre. Adesso, anche con lo sciopero, quando in genere i rincari dovrebbero corrispondere un potenziamento dei servizi. In Umbria è l'esatto contrario.